Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondo ad un signore il quale mi chiede, dottore ho male alla schiena, ho un forte, atroce, male alla schiena. Io gli ho risposto a che altezza della schiena, ha fatto tutte le visite mediche, cosa le ha detto il suo medico, che diagnosi eccetera eccetera. Lui ha detto che sta bene, che non ha nulla di rotto, però il male alla schiena è altezza vita. E io gli ho subito risposto, gli ho detto ma per caso pensi ai soldi, è un problema di soldi? E lui in prima battuta ha detto no dottore, non è un problema di soldi. Pensaci bene, pensaci bene, pensaci bene. A un certo punto ha risposto la moglie, me l'ha scritto lui, dicendo è invece un problema di soldi, da quando sei andato in banca a pagare quella scadenza ti è venuto questo male alla schiena. Quindi tradotto, che significa tutto ciò? Significa che dalla mente nasce tutto, anche ciò che non riesci a prima vista a capire con la ragione. Perché è difficile per noi, soprattutto occidentali, afferrare certe dinamiche. Perché si pensa subito, ho fatto questo movimento, mi sono abbassato, mi sono alzato e lì è successo, quindi è stato colpa del movimento. Ma sono tutti catalizzatori, effetti, non cause vere. Le cause vere stanno nella nostra mente. Senza se, senza ma. Ora, se tu hai un dolore cronico alla schiena, vuoi liberarti di questo dolore, devi usare il potere della tua mente da solo, da sola. Oppure con l'ausilio di Audio MP3 DCS, di ipnosi DCS vera, professione alla B maiuscola, dal titolo Controllo del dolore, oppure Elimina dolore con entusiasmo, oppure Molto controllo dei nervi. E addirittura anche con un altro Audio MP3 DCS dal titolo No mal di schiena. Potentissimo, naturalissimo, parole trasparenti, naturali, però create ad arte, ad hoc, che elimineranno, guideranno la tua mente profonda e il tuo subcosciente ad eliminare questo dolore alla schiena. Ok? Come è successo, centinaia e centinaia di persone nel mondo. Non devi credermi, devi pensare che l'ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola, riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958, dalla stessa chiesa con Papa, più o non nel 1847. E a tutti i santi crismi per essere accettata dalla massa, dal popolo. Però, prima di essere una scienza, l'ipnosi, vera e professionale, l'ipnosi DCS, vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills, è un'arte. Ok? E tutti sanno dipingere, ma non tutti sono artisti. Fammi tutte le domande del caso, qualsiasi dubbio, incertezza, siamo qui per risolverteli. Visita il mio sito internet www.ipnolegiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Sarecino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di DCS del dottor Claudio Sarecino. E fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di DCS del dottor Claudio Sarecino. Un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia, alla prossima, ciao.